no no non ti fa niente poi prendi però non ti devi spaventare perché se no c'è il rischio che poi cade questo se lo fai cadere adesso ci metto una mano sotto è un po' pasticcione tranquilla non ti fa niente pesa? hai visto? te lo faccio niente che bello non ti fa sì no 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 non ti fa niente non ti fa niente guarda eh che pesante è un po' ciccione allora dà fastidio ma non ti preoccupare non ti fa niente ti preoccupare? no perché lui si sta grappando tocca qua la testa è di là la testa è di là vuoi toccare? qua guarda no anzi non ti fa niente qua e non glielo mandiamo alla mamma? non voglio non vuoi? ha detto una parola no tranquillo non fa perchè si deve mantenere nemmeno una cosa non riesce a tenere prendiamo quello piccolo piccolo ok? da drin questa? il piccolo non fa niente ma neanche questo perchè no no nel senso non si muove come questo intendo prendiamo quello piccolo dai cioè lo prendiamo, prenda lui